Avrebbe compiuto 100 anni il 26 maggio prossimo Mike Bongiorno, protagonista in discusso di una TV che non c'è più ma che continua a portare con sé un'eredità eterna. Per l'occasione Daniele Azzuccoli, moglie del conduttore a cui è stata accanto per 39 anni fino agli ultimi istanti di una vita piena di tutto, ha raccontato l'uomo, il marito, il padre e... Per l'occasione Daniele Azzuccoli, moglie del conduttore a cui è stata accanto per 3 ieri ho voluto festeggiare il mio compleanno sul set della Fiction, tratta dalla sua autobiografia, che la Rai sta girando, a Torino, sulla vita di Mike. Mi sembrava di avere lì Mike. Ieri ho voluto festeggiare il mio cummoto di affetto. Mike Bongiorno e Daniele Azzuccoli si sono conosciuti quando lei aveva 20 anni e lui 46. Quando lui è morto avevo 59 anni. Sono stata quasi 40 anni. Ero proprio una ragazzina all'inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava. E gli ultimi tempi mi diceva, se è il bastone della mia vecchiaia ha ricordato Zuccoli che, pur considerando le tigi, la differenza d'età all'inizio ha pesato. Lui non c'era. Ci siamo un po'. Succede che si sbagli, ma io non avrei mai potuto vivere senza di lui. E in momenti duri di una vita a due così piena di tanto, considera la sua assenza ancora mo' eventuali corteggiatori. Sì, ma nessuno riesce a essere lui, nessuno ha il suo carico. Non ci si annoiava mai. In giro invece ci sono tanti uomini noiosi, ha aggiunto. In giro invece ci sono tanti uomini noiosi, ha aggiunto. Se vorrebbe un compagno? Deve essere un altro Mike, non è per spiegare la sintonia della loro vita insieme che fino all'ultimo istante è stata intensa e piena di amore. Zuccoli ha ricordato nei dettagli gli ultimi giorni di Mike che se n'è andato circondato. Gli ultimi tre giorni di vita di Mike sono stati simbolici. Lui stava benissimo, aveva 85 anni, era sano, è morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita, il racconto condiviso da Zucco. Il marito è morto l'8 settembre 2009, tre giorni prima che il loro ultimo genito Leo compisse 20 anni e aveva organizzato una festa nella loro villa a Lago. Mike volle andare lì a salutare i ragazzi, cosa che non fa. Il 6 mattina è nata Luce, la bimba di Nicolò, altro figlio della coppia, NDR, e siamo corsi alla Mangiagalli per vederli. Lui era felice. Il 7 decidiamo di andare a Mono. Era di ottimo umore, canta. Abbiamo cenato con i nostri carissimi amici, a proseguito. Fino alla mattina di quell'8 settembre, mi sveglia lui, e mi mette i giornali sui cuscini. Ordiniamo la colà. Io gli imburro il pane poi la mazziamo seduti di fronte, che io torno a letto a leggere. Lui si siede in fra me e me. Penso, come sto bene con lui ma non glielo. Poi mi arriva la foto della piccola luce sul cellulare. Mi alzo, gliela faccio vedere e lui dice che bella, sembri tu quando prendi. Queste sono state le sue ultime. Mi amava tanto. Grazie. Grazie a tutti.